Siamo negli studi di Ascanews con Luigi Capello, amministratore delegato di El Venture Group, player tra i più importanti in Italia del panorama del mondo delle start-up, ma non solamente, insomma del venture capital, degli investimenti in quelle che sono le novità di business principali del nostro paese, le idee più importanti. Ecco, ci vediamo oggi perché oggi 8 luglio è un giorno importante, un nuovo aumento di capitale, partiamo da questo. Sì, oggi proprio 8 luglio viene dato l'avvio a un aumento di capitale fino a 6.135.000 con emissione di oltre 11 milioni di azioni, nel rapporto di una azione nuova ogni tre azioni vecchie. Dall'8 al 19, per cui estremi complesi, per cui da lunedì a venerdì della settimana prossima è possibile per chi non è socio comprare i diritti di opzione, mentre per chi invece fosse socio ha tempo fino al 24 di luglio per esercitare, per sottoscrivere le azioni. Pensiamo che sia un'operazione molto interessante, per chi sottoscrive vi è un vantaggio fiscale come se investissero in start-up innovative, ovvero vi è un credito di imposta per le persone fisiche del 30%, ciò significa che su 10.000 euro 3.000 si possono dedurre, proprio dedurre dalle tasse, perché questo è un vantaggio direi molto molto importante, oltre a uno sconto sul valore di borsa, per cui direi che è un'operazione interessante, è un titolo growth, che vuol dire di crescita, sono i titoli che è necessario, ecco attenzione che questi incentivi fiscali valgono nel caso di sottoscrizione e bisogna tenere il titolo per tre anni, per cui diciamo che è un titolo growth, è un titolo che performa molto bene, bisogna avere un po' la pazienza, però insomma io penso che chi investe in questo tipo di attività ha in preventivo i tre anni di investimento. Ecco, un investimento importante, perché è un investimento come diciamo legato alla crescita, legato alla crescita anche del paese, perché magari poco si conosce dell'attività del mondo del venture capital, cerchiamo di dare qualche indicazione in più, cerchiamo di parlare per esempio dell'attività di El Venture Group, come si articola? Allora, due parole sul venture capital, il venture capital è un capitale molto etico, investe in nuove iniziative, nuove iniziative che crescono, per cui è uno dei principali strumenti per far crescere e sviluppare un paese, in Italia siamo indietro, ma essere indietro può essere anche un'opportunità, vuol dire poi possibilità di tassi di crescita maggiori e recuperare terreno. Questo è il panorama generale. Per quanto riguarda El Venture Group, noi ci posizioniamo nelle fasi iniziali, proprio nella fase di nascita, con l'acceleratore Luis & Labs in partnership con l'Università, noi selezioniamo team che abbiano dei progetti, li ospitiamo da noi negli spazi a Roma e Milano e in cinque mesi li portiamo a fare i risultati, per cui diciamo che è una sorta di miracolo economico, con un grande impegno, con un programma di accelerazione dedicato, perché è un team di persone interno, più mentori e diciamo advisor che supportano le start-up, in cinque mesi riusciamo a fare dei risultati. Se la start-up fa i risultati come atteso, li portiamo dagli investitori. Noi continuiamo ad investire, investiamo sia durante il programma complessivamente 145 mila euro insieme ad un altro investitore e nelle fasi successive li portiamo a, diciamo davanti agli investitori, investiamo noi con Italian Angel for Growth, che è un gruppo di angel e poi insomma la start-up ci auguriamo che cresca e poi cammini con le sue gambe e raccolga i fondi internazionali, perché le start-up nostre nascono in Italia, ma devono come dire avere business model scalabili, ovvero devono poter andare a livello internazionale molto velocemente. Ad oggi abbiamo in portafoglio 60 start-up, molte di queste sono a livello internazionale, ricordo Soundriff, Together Price, Manet, ecco ce ne sono, io poi faccio come il papà dei gracchi, insomma, per cui sono molto affezionato a tutte, però è chiaro che poi dobbiamo puntare sul terzo, diciamo il 37-38% del portafoglio che va molto bene, dobbiamo poi focalizzarci su chi comincia a fare risultati, ecco, senza lasciare indietro nessuno, però insomma dobbiamo mettere l'attenzione su chi fa i numeri, ecco, questo è un po' il nostro modello, si parte dall'Italia, si crea lavoro qui e diciamo con grande passione, grande forza di tutti questi ragazzi riusciamo a fare numeri molto interessanti. Numeri interessanti, risultati, ecco, ma quali sono i risultati di El Venture Group? Sì, allora oggi El Venture Group 2019 abbiamo ricavi per 5 milioni attesi, abbiamo un pareggio di margine operativo e ci attendiamo un utile che è dato sia dalle rivalutazioni e sia ovviamente da exit di start-up. Un dato molto interessante per illustrare meglio la crescita del nostro portafoglio è il fatturato aggregato delle start-up. Il fatturato aggregato delle start-up circa 28 milioni nel 2018 che si posiziona circa 39 milioni atteso per il 2019. Per cui abbiamo una crescita di circa il 50% del fatturato, questo possiamo dire che è uno degli indici che fa vedere proprio la forza di quello che stiamo facendo. Insomma abbiamo creato in 6-7 anni un'azienda che fattura, diciamo come se fosse tutto insieme, un aggregato di fatturato di circa 39 milioni e questo insomma è un grande valore perché ripeto non è un'azienda piatta, ci attendiamo, però il prossimo anno siano magari 50 e il 2020. Per cui quello che è importante nel nostro mondo è proprio nascere e crescere con tassi di crescita molto importanti, cosa che stiamo facendo con grande soddisfazione.